Lettura del cielo di Libra dal 23 settembre al 22 ottobre. L'eroe di tutti i giorni. Dall'ombra alla luce. A cura del gruppo di ricerca di astrosofia Aldebaran della comunità di Etica vivente. Benvenuti. Siamo alla settima tappa del nostro viaggio nello Zodiaco, come gli eroi di tutti i giorni. Siamo in Libra, un segno caratterizzato dall'elemento aria, quindi dal pensiero. Questa non è l'aria di Gemini. Che evento che uscilla da un polo all'altro? È un'aria diversa. Di che si tratta? L'aria di Libra è un'aria di equilibrio, una brezza leggera che rinfresca e non produce turbamenti. Libra ama la bellezza, l'armonia e la gentilezza. Non ama invece i contrasti e i conflitti. Libra, di fatto, è il punto di equilibrio dello Zodiaco, il settimo segno zadiacale. Infatti, in questo segno non si producono particolari crisi, ma c'è solo equilibrio, che prelude ad un effettivo progresso più sensibile. È segno di attenta valutazione, di giusta parità fra gli opposti che si devono bilanciare e devono giungere ad una soluzione. E questa soluzione deriva dall'uso del giudizio mentale, stabilendo un equilibrio tra il principio maschile e quello femminile. È il sentiero dell'evoluzione della coscienza, sottile come un rasoio, che passa tra le coppie di opposti e che richiede appunto un acuto senso dei valori. Valori che possono essere messi a fuoco grazie ad una mente analitica, equilibrante. Ci racconti ancora qualcosa di questa ricerca verso l'equilibrio, che si esplica così bene in questo segno? Libra è contemplazione, è equilibrio appunto tra anima e forma. Nessuna delle due prevale. Equilibrio come interludio usato dall'anima per apprestarsi alla battaglia mentre la personalità attende. Battaglia che si svilupperà in Scorpio. Ecco, quindi l'attività della personalità cresce e si sviluppa, mentre vela e nasconde l'uomo del cuore, cioè il Cristo in ogni forma umana. Abbiamo detto dunque che in questo interludio si stabilisce l'equilibrio fra i due, dove nessuno predomina. La bilancia oscilla verso l'alto e verso il basso e rappresenta l'uomo che oscilla a sua volta fra le coppie di opposti. Ciò spiega l'importanza di questo segno nella vita dell'uomo, nonché le sue difficoltà peculiari. È quella strana esperienza di alternative che tanto penosamente sconcerta dapprima che vuole essere semplicemente umano, ma poi scopre in sé ostacoli ed impulsi che lo indirizzano a qualcosa di superiore. Immagino non sia semplice concentrarsi e tendere alla vita dell'anima, ma dentro sé stessi si trovano di continuo aspetti che ci riportano alle vecchie abitudini, desideri e zone di comfort. L'uomo nato in Libra è talvolta difficile da capire proprio per questo suo bilanciarsi e sbilanciarsi negli opposti. Sembra vacillare, ma per poco e per lo più in modo impercettibile. E le sue qualità finiscono poi per ricomporsi appunto in un equilibrio. Libra talvolta è anche chiamata il luogo del giudizio. Perché? In questo segno si decide che fare, se evolvere e quindi lottare o restare allo status quo. Insomma si getta il dado. E poi Libra garantisce la legge. In che senso? La legislazione si preoccupa spesso di imporre divieti, con conseguente senso di timore per le punizioni, ma forse qui gli intenti e i propositi Libra si possono interpretare in modo diverso. La legge deve custodire la giustizia in modo positivo e non essere soltanto strumento di costrizione. D'altro canto ogni scelta intelligente deve fondarsi sul riconoscimento di alcuni principi e leggi generali e sulla corretta applicazione sul caso oggettivo. Il che porta alla manifestazione di un diritto che rappresenta ed applica la giustizia. Ecco perché si parla di luogo del giudizio. Anche questa volta trattiamo il tema dell'ombra. Qual è quindi l'ombra di questo segno? L'ombra si presenta in forma di compromessi inopportuni per paura del conflitto. Anche l'oscillazione continua tra due poli può ostacolare la scelta e bloccare l'evoluzione. Può anche essere che, dimentico di sé, l'individuo si occupi a trovare tutte le disarmonie e ingiustizie che lo circondano e quindi tenti di risolverle tutte creando più problemi che soluzioni. Molto interessante. Vediamo allora anche questa volta quali sono i pianeti governatori di Libra. Partiamo allora dal piano esoterico. Qui abbiamo Venere. Venere ricerca l'armonia nella relazione, la scienza dei rapporti umani, la discriminazione per andare incontro all'altro, il senso della parità e della dignità umana. Abbiamo appunto detto prima anche le giuste leggi per le giuste cause. Infatti, e rappresenta anche la bellezza che si manifesta all'umanità per mezzo dell'arte. Sul piano esoterico animico, invece? Qui troviamo Urano, l'abbattimento delle barriere nei rapporti interpersonali, la libertà come valore dell'uomo, il giusto uso dell'energia denaro volto al rinnovamento della società. E sul piano gerarchico? Troviamo Saturno, la mente illuminata al servizio del piano. Ottimo! E come ad ogni incontro, vediamo ora quando cadono Plenilunio e Novilunio. Questi due momenti ciclici sono importanti, ma perché? Non l'abbiamo mai detto. Nel Plenilunio la luna, principio femminile ricettivo, e il sole, principio maschile fecondante, sono in due segni opposti tra di loro. Si fronteggiano e dialogano e le loro voci si irradiano e riempiono tutto lo spazio. Nel Novilunio, invece, sono abbracciati nello stesso segno e danno vita ad un'idea, ad un pensiero che andrà radicato in coscienza e custodito e nutrito. Immagino che in questi due momenti tutti gli altri pianeti possano formare aspetti sia fluidi che tensivi. Sì, e in ogni caso sono in sinergia con quello che il particolare momento ci vuole indicare. Ma allora nel Plenilunio che succede? Nel Plenilunio di Libra, il 29 settembre, a pochi giorni dall'ingresso del sole nel segno, aspetti tensivi sollecitano Marte nel segno a infondere energia e coraggio. Così come Venere viene sollecitata da Urano a risplendere di un nuovo collegamento anima, cuore e mente. E Mercurio viene invece sollecitato da Nettuno ad avere un pensiero più profondo nella vita quotidiana. Una particolare configurazione fluida coinvolge Plutone, Urano, Nettuno, Giove e Mercurio, in prevalenza nell'elemento terra, indicando la necessità di portare in manifestazione nuove forme, valori originali per il nuovo mondo, purificati però da interessi personali emessi al servizio. Se non sbaglio, è Nettuno il regista, a significare che solo nel contesto di una visione di redenzione l'umanità potrà evolvere. È così. Il Novilunio invece? Nel Novilunio, il 14 ottobre, Venere, ora in Virgo, viene sollecitata da Saturno ad estrarre bellezza in ogni atto della vita. Plutone insiste nella sua opera di rigenerazione della personalità per renderla idonea ad essere strumento dell'anima. Il Sole e la Luna nel segno di Libra, con Marte in Scorpio, ci dà il coraggio di andare nelle oscure profondità del nostro essere e dissipare le illusioni. La compagine planetaria del Novilunio è sostanzialmente simile a quella del Plenilunio con Nettuno regista e mira a seminare in coscienza una visione purificata e innovativa dei retti rapporti da manifestare in giustizia e verità. Sì, perfetto, è così. Vediamo ora gli aspetti ombra come ad ogni incontro. Venere, il pianeta sul piano della personalità, è un pianeta relativamente veloce e qui nel mese del segno forma molti aspetti, specialmente con la Luna, che sappiamo cambiare segno ogni due o tre giorni, modificando il nostro umore. Potrei intestardirmi nelle mie realizzazioni, non sentirmi a mio agio nei gruppi perché svalorizzata o sentirmi confusa nei miei pensieri o addirittura disagio. Con Venere quadrata a Durano vengo spinta a cercare nuove fonti di bellezza, potrei poi cercare nuovi inizi senza saper decidere e in famiglia magari puntare solo al lato estetico turbando equilibri. E con Venere in Virgo, opposta a Saturno, potrei sentirmi ingabbiata in regole che non ho scelto e che sento come delle imposizioni o potrei non avere chiare le mete da raggiungere. Forse c'è anche il rischio di allargarsi troppo nella ricerca di possessi da acquisire e diventare imprudenti per eccesso di fiducia. Sì, è possibile. Guardiamo allora gli aspetti luce. Urano, il pianeta sul piano dell'anima, è un pianeta lento ma incisivo. Porta innovazione, libertà, ribellione a schemi e consuetudini che hanno fatto il loro tempo e spesso agisce in maniera violenta a strappo proprio per risvegliarci dalla nostra inerzia. Anche lui forma molti aspetti, in genere fluidi con la Luna, che però hanno un significato diverso, immagino. La Luna rappresenta la forma, lo sappiamo. Ne consegue una spinta verso nuove forme con Urano, che si tratti quindi di gestione del potere, di una visione redimente, di nuovi inizi, di nuovi valori, di un recupero del passato saggio e delle nostre radici, della nostra individuazione, della nostra capacità di rivedere e rivalutare la nostra quotidianità, di un pensiero innovativo che costruisca sane relazioni basate sull'intelligenza del cuore e non solo sulle affinità. Tutto questo coinvolge Urano e la Luna. È interessante l'aspetto tensivo con la Luna in Aquarius, a significare che i gruppi, ora, devono rinnovarsi nelle loro modalità e finalità. Esattamente. Altro aspetto tensivo con Marte in Libra e Luna in Leo sta a significare il coraggio, anzi, l'audacia che ci serve per compiere un salto evolutivo affinché i retti rapporti si definiscano all'interno dell'umanità e anche con gli altri regni di natura. A questo punto proporrei di fare la meditazione. L'ultima volta l'ho condotta io. La vuoi fare tu questa volta? Volentieri. Questa meditazione ci potrà accompagnare per tutto il mese di Libra ed ispirarci per vivere al meglio questo periodo. Allora iniziamo. Sediamoci comodi, ma con la schiena diritta. Chiudiamo gli occhi e facciamo dei respiri profondi e regolari. Formuliamo nella mente questa frase. Io sono quieto e posizionato nel mio centro. Sono in equilibrio. Rimaniamo qualche momento in silenzio, lasciando che affiorino da un luogo interiore inconscio eventuali contenuti utili. Grazie. 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 Accolgo ora le energie benefiche di Urano e Saturno che mi aiutano ad esprimere concretamente, nel mio modo di agire quotidiano, l'aspirazione a conformarmi con saggezza e amore al volere di Dio. Grazie. Visualizziamoci come parte della grande rete luminosa che avvolge il pianeta ed è costituita da tutti i gruppi e uomini di buona volontà. Attraverso questa rete diffondiamo, in un atto di servizio, energia luminosa di Libra a tutti gli esseri e a tutta la Terra. ora, quando ci sentiamo pronti, con delicatezza facciamo un respiro profondo e apriamo gli occhi. rimaniamo ancora qualche secondo osservando l'immagine e ascoltiamo una frase scelta dal gruppo Aldebaran per il segno di Libra. Condizione propria della fratellanza è la commensura perfetta fra pensiero ed espressione. ecco l'ossatura della vera bellezza. Ci vediamo il prossimo mese quando il Sole entrerà in Scorpio. Buon mese a tutti. A risentirci.